Sistema inedito per guadagnare dai mercati sportivi. Qui è Cristian Rocconi, sport trader professionista e oggi vedremo in maniera estremamente dettagliata come utilizzare questo sistema per guadagnare dal mercato. Un sistema assolutamente professionale, un sistema che ci permette di andare a letteralmente costruire la quota che ci interessa, la selezione che ci interessa, anche se questa non è disponibile sul mercato. Prima di iniziare ovviamente iscriviti al canale YouTube, ne vale del tuo futuro nel mondo delle scommesse sportive, ne vale della tua formazione. Iscriviti al canale YouTube e se hai la possibilità registra questo video perché è assolutamente pratico e assolutamente importante perché a breve questi video verranno resi privati, quindi dovrai pagare per visionare questo tipo di contenuti. Sistema altamente professionale. C'è da dire una cosa, il mercato è pieno di ciarlatani e quindi uno dei modi più semplici per rendersi conto se effettivamente davanti a te è un professionista o meno è quello di capire se questo personaggio effettivamente è in grado di muoversi come un vero professionista sul mercato. Questi personaggi se ne approfittano e spesso vanno a colpire il classico scommettitore della domenica che è fondamentalmente ignorante della materia e che facilmente era girabile. Quello che facciamo qui è mostrarti un sistema assolutamente professionale per andarti a creare la tua quota sul mercato, la tua selezione, andare a ottenere una quota di valore e andare a colpire il mercato proprio dove è più scoperto. Bene, molto bene. Qua sotto in descrizione trovi una prova segnali gratuita. Qua sotto in descrizione quindi trovi il link e puoi usufruire della prova segnali. Ovviamente se non ti sei iscritto al canale youtube iscriviti perché siamo costretti a iniziare subito, bisogna farlo, bisogna veramente mostrarti cosa vuol dire lavorare in maniera professionale. Ti mostro come andarsi a costruire letteralmente una selezione, una quota sul mercato. Parliamo di risultati esatti o meglio parliamo di multi risultato esatto. Noi andiamo sostanzialmente a crearci l'operazione apposita. In alcuni bookmaker già hanno la possibilità di scommettere sul multi risultato esatto. Questo succede per alcuni bookmaker, non per tutti. Ma solitamente questi bookmaker, queste piattaforme hanno un agio molto alto. Quindi praticamente, detta in soldoni, ci vanno a pagare meno di quanto dovrebbero in realtà. E questa percentuale di ritenuta sicuramente è un problema. Soprattutto nel medio-lungo periodo. Per andarci a costruire l'operazione apposita, intanto qui si è di fronte alla grafica di Bet365, per andarci a costruire l'operazione apposita e la relativa quota, bisogna andare a prendere le quote offerte dalle varie piattaforme di scommesse. Per andare a effettuare un calcolo matematico, sostanzialmente al fine di ottenere la quota media più alta possibile. Questo è il nostro obiettivo. Per fare questo bisogna essere molto competenti. Per questo vi dicevo prima, i ciarlatani, questa roba qua, non la sanno fare. È molto semplice vedere e scoprire la realtà, la verità, sul lavoro che poi queste persone mettono in campo. Già parlare di lavoro per questi personaggi è un termine troppo grande. C'è da dire che comunque se una persona che sta sul mercato da qualche anno e si spaccia per professionista non è in grado di andarsi a costruire una quota sul mercato, beh, capite da soli che è veramente qualcosa di ridicolo e ovviamente non siete di fronte a un professionista. Noi lavoriamo a stretto giro, a stretto contatto con i mercati sportivi, vengono distribuite costantemente analisi di mercato e una delle tante analisi di mercato che è strata distribuita la vediamo insieme, è praticamente uno screen di questa operazione ed eccola qua, è Raillanda-GBilterra di qualche giorno fa la qualificazione europei e ci siamo andati a costruire un multirisultato esatto prendendo il 2 a 0, il 3 a 0 e il 4 a 0 per una quota a 1,86. Quindi qui stai vedendo quello che è effettivamente il calcolo finale che è stato effettuato. Quindi stai vedendo la percentuale dello stake per ogni singola operazione da piazzare per il relativo risultato esatto. Ovviamente per fare questo c'è bisogno di esperienza, per fare questo c'è bisogno di essere estremamente competenti perché una delle cose più difficili del betting professionistico è quella assolutamente di andare a definire la quota reale su un risultato esatto o ancora meglio su un multirisultato esatto. In questo caso noi come al solito siamo stati in grado di stabilire la quota reale a 1,72 e questo ci ha permesso ovviamente di scovare sul mercato una quota di valore di questo tipo. Quindi ci vuole veramente tanta competenza per andare a effettuare e per andare a capire effettivamente al netto di tutta una serie di calcoli, di valutazioni e appunto al netto di tutta una serie di variabili quindi poi da andare a considerare è difficile andare a definire la quota reale su un multirisultato esatto ed è una delle cose più complesse che il betting richieda. E ovviamente per far sì che tu nella tua condizione attuale, quella da adesso, si aspira a diventare un professionista o che comunque hai già dimestichezza col mercato ma comunque vuoi raggiungere un livello molto più alto potrebbero passare tranquillamente anni, letteralmente anni, per avere le competenze, le abilità, le informazioni e le skills necessarie per poter andare a stabilire una quota reale su questo multirisultato esatto. Quello che stai vedendo, e ci tengo a ribadirlo perché così non tempestare di messaggi il nostro servizio assistenza tra l'altro il link lo trovate qua sotto, ci tengo a ribadirlo che stai guardando una delle operazioni distribuite all'interno di ValueWordsBet365 Il prodotto, questo prodotto, ValueWordsBet365, è a mero e pannaggio, è esclusivo soltanto per gli investitori di Football Pro 2.0 Questo cosa vuol dire? Che se non sei investitore di Football Pro 2.0 non puoi acquistare, non puoi acquistare ValueWordsBet365 Questo deve essere chiaro e ci tengo a ribadirlo, molto importante Allora, cosa dobbiamo fare per effettuare un calcolo di questo tipo? Lo andiamo a vedere a livello tecnico e ti faccio vedere qual è sostanzialmente il calcolo che devi andare a fare Prendiamo la nostra calcolatrice, molto velocemente Quello che devi fare, semplicemente, è calcolare l'inverso di ciascuna quota Questo cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente devi effettuare un calcolo molto molto semplice Devi dividere la quota per 1, quindi farai Prendiamo la quota a 6.50, dividerai 1 diviso 6.50 Ok? E otterrai questo risultato Fai la stessa cosa per le altre quote offerte dai relativi risultati esatti Quindi 3.0 fai 1 diviso 5 Per il 4.0 fai 1 diviso 5.50 Ok? Eccoci qua Ho dovuto prendere un file Word per farti vedere come lavorare sul mercato Cerco di riaprire la schermata, eccola qua Con i relativi risultati esatti Mettiamo la calcolatrice in sovraimpressione Ed eccoci qua Quindi rifacciamo il calcolo insieme Prendetelo molto semplice Fai l'inverso della quota Quindi 1 diviso 6.50 Quindi è qui 0.1538 Se non erro Eccolo qua Poi fai la stessa cosa per la quota 5 Te la rimostro qui Vedi? Quota 5, 3 a 0 Bene, quindi fai 1 diviso 5 E fa 0.2 Ok? Ti sto facendo vedere passaggio per passaggio Anche se alcuni calcoli sono veramente banali Andiamo avanti Stessa cosa fai per la terza selezione Vediamo se la ritrovo Eccolo qui 5.50 Ok? Quindi fai 1 diviso 5.50 Perfetto Bene, adesso che cosa fai? Fai la somma Dei valori inversi Quindi la somma 0.1538 Allora prendiamolo qui Molto velocemente 0.1538 Più 0.2 Più 0.18 Allora Perdonatemi Eccoci qua 0.2 Ed eccoci qui Questa è la somma Allora salva questo valore Quindi è 0.5356 Cioè ve la sto rendendo semplicissima Anche mentre elenco i vari numeri Quindi che cosa devi fare adesso? Hai fatto la somma dei valori inversi Non ti resta altro che Per la quota 6.50 Prendere il primo importo Che è qua sopra Quindi 0.1538 E dividerlo Per 0.5356 Tutto va moltiplicato per 100 Te lo faccio vedere Allora facciamo così Rendiamolo più semplice ancora Allora 6.50 Te la rendo veramente Veramente molto semplice In modo tale che Puoi riguardare più volte questo video E capire se ti sei perso qualche passaggio Perché Comprendo che possa essere Per alcuni complicato Soprattutto all'inizio Ed ecco qui Quindi per la nostra quota 6.50 Il calcolo da fare è sostanzialmente questo 0.1538 0.53 0.56 Ti metto le virgole Ok Perfetto Per 100 Ed ecco Se fai il calcolo Lo vedrai tranquillamente Lo possiamo fare? Facciamo Allora dammi un attimo Facciamo il relativo calcolo Allora Scusate E' partita La solita classica Sveglia Voi non la sentite Allora Eccoci qui Quindi semplicemente Cosa dovete fare? Dovete fare il calcolo Che vedevamo prima Ve ne faccio uno Ve ne faccio uno Per non rendere il video troppo lungo Quindi 15.38 Diviso 0. Eccolo qua Perfetto Quindi sostanzialmente 28, Approssimiamo per eccesso 0.72 Per cento Ok Questo cosa vuol dire sostanzialmente Che Per la vostra selezione Per il primo risultato esatto Dovete Del vostro stake Puntare il 28,72 Per cento E lo vedete anche In questo screen Come vedete 28,72 Per cento Bene Fate lo stesso identico calcolo Con i valori Che abbiamo calcolato Precedentemente Per il risultato esatto 3 a 0 Con quota 5 E il risultato esatto 4 a 0 Con quota 5 e 50 E vedrete che ovviamente Saranno I risultati saranno Fedeli A Questo A questa dicitura O meglio A queste indicazioni Che ho fornito Che abbiamo fornito All'interno Del prodotto professionale Vedrete che alla fine Alla fine E lo facciamo subito Ve lo faccio vedere Se noi Mettiamo il caso Che la nostra puntata In euro Sia pari a 100 euro Prendiamo il 28,72 Per cento Sono 28,72 euro E sostanzialmente Cosa andiamo a fare Prendiamo 28,72 Guarda Facciamo Così Eccoci Semplificiamo le cose Allora 28,72 E la andiamo a moltiplicare Per la quota La nostra quota Lo rivediamo insieme Era 6,50 Quindi facciamo questo Per 6,50 Perfetto 186,68 Questo cosa ci sta a indicare Che abbiamo ottenuto E ci siamo costruiti Sul mercato Una quota A 1,86 In barba All'aggio E alle varie situazioni Che i bookmaker Mettono in campo Per bruciarci E per pagarci di meno Per bruciarci profitto Per sostanzialmente Andarci a pagare di meno Quindi A 1,86 E la quota Che infatti Ovviamente Come la comunicazione Che è stata fatta Trovate riscontro qui Accendiamo Multi risultato esatto Prendendo 2,0 2,0 3,0 4,0 A quota 1,86 Difatti Se voi fate Il relativo calcolo 37,34 Per 5 E 33,94 Per 5,50 Vedrete che Tutti i risultati Portano a 186 euro Chi più Chi meno 186,87 E via discorrendo Ok Questo è veramente Importante Quindi avete visto Nel caso specifico 186,68 Quindi avete visto Nel dettaglio Come costruire Come andare a reperire Innanzitutto E andare a costruire Una quota Una quota Che ci permette Di essere pagati In maniera adeguata È essenziale Questo Perché ovviamente Come ben Avrete capito Dopo anni e anni Di video Per noi è importante Stabilire un vantaggio Matematico Sul mercato E questo vantaggio Più ovviamente Quella quota Ci permette Di ottenerlo Perché ce la siamo Andate a costruire E più ovviamente Noi Guadagniamo Questo È ovvio Quindi cosa dire Ti faccio vedere Sostanzialmente Come lavorano Dei veri professionisti A mercato E lo vediamo Insieme Lo vediamo Tornando Su quella Che era la grafica Ed eccoci qui Ritornati Su Bet365 Ma voglio Assolutamente Farti vedere Lo storico Del prodotto professionale Football Pro 2.0 Perché mi piace mostrarti I dati I numeri Siamo davanti Lo storico Del 2023 E nel dettaglio Questo è lo storico Di uno Dei nostri Investitori Investitore che Ha iniziato a seguire Il prodotto professionale Dal primo gennaio Dell'anno 2023 E in poco più di suoi mesi Puoi vedere L'operatività Condotta Da questo investitore Copiando fedelmente Le nostre analisi Di mercato Totalmente Prematch Ti consiglio di guardare Alla sessione conclusa Del 26 Perché il 27 Era ancora In divenire Comunque Guardando Alla sessione Del 26 22.667 Virgola 25 Euro Per un netto Di 12.000 euro 12.600 e più euro 12.600 e più euro In sei mesi Di operatività Semplicemente Facendo cosa Copiando l'analisi Di veri Professionisti Prova provata Questi sono Gli storici Questo è lo storico Di uno Dei nostri investitori E se vuoi Visionarlo In maniera assolutamente Completa Ed esclusiva Perché a breve Non sarà più disponibile Qua sotto Ti viene posto Il link Per visionare Lo storico Di questo nostro Investitore Investitore Che ovviamente Ha copiato fedelmente Le nostre indicazioni Di mercato Prodotto professionale Di grande Peso Di grandissimo Peso Un prodotto professionale Che ti permette Di guadagnare Semplicemente Copiando Le mie Le nostre Analisi Analisi Di veri Professionisti Sul campo Che guadagnano Veramente Dai mercati sportivi In questo video Ti ho insegnato Come andarti A costruire una quota Una cosa Molto Molto Importante Che ovviamente Non avrai visto Da nessun'altra parte Perché tutti quelli Che trovo online Sono dei grandi Ciarlatani Nei migliori dei casi Se non truffatori Questa è la realtà Dei fatti Quindi ti fai Sempre Molta Molta Attenzione Qua sotto In descrizione Trovi il link Della nostra Assistenza I ragazzi Del team Ti risponderanno Tranquillamente Trovi La relativa Informativa Di Football Pro 2.0 Ovviamente Carissimo Ti auguro Un buon Betting Ti invito A iscriverti Al canale YouTube E ci vediamo Nel prossimo Video E mi raccomando Se è la possibilità Registra Questi video Perché diventeranno A pagamento E mi raccoglietto